Nell'ultimo consiglio della città metropolitana è stata approvata la mozione sul testamento biologico. Questo consentirà a tutti i comuni della città metropolitana, i 315 comuni, di creare presso i loro uffici il registro per il testamento biologico. Questa mozione arriva dal fatto che dobbiamo sollecitare il governo affinché vi sia una legge nazionale sul tema. Adesso è stata rimandata di nuovo alla Camera la proposta di legge. Erano partiti in aula due giorni fa gli emendamenti ma è stata stoppata. Quindi è stata rinviata la discussione fra due settimane. Noi chiediamo un impegno serio sul tema perché in questo Paese bisogna legiferare in merito ai diritti civili. Quindi oltre a questo chiediamo anche che faremo un ordine del giorno e lo manderemo a tutti i comuni per sollecitare il governo affinché venga immediatamente votata alla Camera e poi calendarizzata subito dopo al Senato così possa diventare finalmente legge.